uscita 8 a comincia subito così niente menù niente opzioni che cazzo si deve fare in questo gioco ovviamente raggiungere l'uscita 8 oddio ma sono di nuovo qui ma è lo stesso di prima sei lo stesso di prima scusate situazione strana mi faccio cadere il telefono lui neanche si ferma qualcosa è cambiato sì perché prima quei cartelli non c'erano sicurati di non guardare troppo alcuna anomalia se trovi un'anomalia girati e torna indietro se non trovi nessuna anomalia continua ad andare procedi propinquedi verso l'uscita numero 8 allora evidentemente ho sbloccato qualcosa toccando il tizio quindi devo anche interagire per sbloccare la situazione vabbè di nuovo devo di nuovo toccare il tizio vediamo oh gesù non devo guardare troppo le anomalie non so per quale motivo però lì si è aperta una porta però se c'è un'anomalia devo tornare indietro vediamo eh sì infatti è zero ok allora qui c'è il tizio di prima mi sembra più alto si è più alto e devo tornare indietro perché questa è un'anomalia vediamo sì allora uno devo arrivare fino all'otto ok tutto chiaro va bene procediamo verso l'uscita numero 8 se non c'è nessuna anomalia procedo da quella parte altrimenti torno indietro no zero sono tornato indietro si può pure tornare indietro quindi porta aperta oh gesù cristo madonna santa cazzo fammi tornare indietro inquietante sì due ok però devo guardare anche i cartelli da guardare tutto perché se c'è qualche anomalia e non me ne accorgo ricomincio da capo però appare qui non ci siano anomalie 3 se dai ce la posso fare ok il tizio non è alto sei metri telecamere disposte in modi diversi può essere quella all'angolo c'è sempre stata ma non sono sicuro questa qui sopra vediamo 4 6 le porte sono chiuse il tizio non è alto sim ma che cos'è sembra uno tipo dietro il muro messo così oddio cazzo 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 si è un'anomalia devo tornare indietro 5 5 5 5 5 5 mi segue mi segue mi segue ma vaffanculo sei dai oh non era così difficile sto gioco no cosa c***o sbagliato è uno mannaggia c'ero quasi c'era arrivato alla sesta forse non ho mantenuto la si credo che questa sia un'anomalia e quindi devo tornare indietro essi mamma mia questa è un'anomalia 3 ok e allora devo tenere in vista anche le mie 0 mi hanno rapito gli agenti dell'fbi stavolta qualsiasi cosa vedo immediatamente torno indietro le mie mani sembrano a posto nessuna anomalia credo guarda che figlio di qua tu guarda il cartello si è spostato e questa è un'anomalia dai 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 faccio attenzione ai dettagli anche ai più piccoli particolari forse ce la potrei fare le mie mani sono a posto questo è un c***o di rumore di sangue che mi sta rincorrendo è fermato pare di sì giorno occhi del c***o ve ne dovete andare a fare in c***o oh l'hai visto il cartello con gli occhi che si muoveva vabbè a questo punto facciamo strada assieme come ti è andata oggi la giornata hai raggiunto l'uscita 8 perché io sono alla 6 i cartelli qui sembrano a a a a a figlia di troppo manca una porta manca una porta volevano fregarmi sti bastardi sì 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 nulla di strano ic cosa c***o è stato questo rumore non vorrei che quel rumore era un'anomalia ma va ti prego ero la settima vediamo sì ho raggiunto l'uscita 8 vediamo botola lì sopra c'è devo stare attento anche alle differenze strutturali allora il cartello fa quello che farebbe un qualsiasi cartello cioè cartella e siamo finalmente usciti sì prima volta che gioco questo gioco siamo usciti eppure adesso un'altra partitella me la faccio perché sono proprio curioso di scoprire quante altre anomalie ci sono alcune mi hanno proprio fatto c***o addosso eh beh ragazzi piccola esperienza alla escape the backrooms se volete provarlo sappiate che ci sono tante altre anomalie a cui far caso in questo gioco io penso di essere stato molto fortunato perché mi sono capitate cose molto semplici adesso mi faccio qualche altro giretto e vediamo se c'è qualcosa di più particolare dai se il video vi è piaciuto lasciate un like se non siete ancora iscritti iscrivetevi e attivate tutte le notifiche dal vostro capitano ben è tutto ci vediamo alla prossima grazie per la visione completa un saluto marmaia vi aspetto nella baia